Ora il podismo con le 1500 persone che hanno preso parte questa mattina alla 37esima edizione di Vivi Città organizzata dalla WISP e che si è svolta nel parco del Valentino di Torino. Vivi Città è una manifestazione che da sempre incarna lo spirito dello sport per tutti e quest'anno la pace, l'ambiente e la ripartenza sono stati temi centrali. Alla partenza è stata lanciata da Radio 1 Rai uno striscione con la scritta pace. Sentiamo allora la presidentessa della WISP, Patrizia Alfano. Una manifestazione dedicata alla pace, Torino corre in contemporanea ad altre 40 città italiane, una delegazione del WISP è partita ieri per una città che ospita un grande campo profughi al confine con l'Ucraina dove verrà organizzata domenica prossima una Vivi Città. E questa era l'ultima notizia della pagina sportiva, la linea torna a Manuera Gatti per la prosecuzione del nostro Tg.